Scusatemi, cosa ne pensate della stangata della Tariq, delle lettere che sono arrivate? Una truffa enorme, una truffa enorme, perché mi devono spiegare come fanno a dire che il condominio fa più differenziata rispetto ad altri. Non lo pesano, lo mettono dentro il camion e lo portano via, dunque lo ritirano una volta a settimana come stabilito per legge. Dunque mi devono dire come fanno a dire che il condominio X consuma più del normale. È triste, già pago 250. È tanto cara, adesso giustamente con questo sovrapprezzo non è facile tirare avanti. Comunque non ho capito come fanno adesso, la pesano, non sono informata. Scusatemi, che ne pensate della stangata della Tariq? È un disastro, io c'è un appuntamento dal medico, se no mi sarei soffermato di parecchio. Domandatela a Latini. Qualche giorno fa mi è arrivata l'ennesima bolletta triplicata rispetto all'anno precedente e sinceramente diventa sempre più difficile far fronte a queste spese, soprattutto con due bambini piccoli. Che ne penso? Guarda, è meglio non parlarne, guarda. Parli, parli. Perché fanno veramente pietà, una cosa del genere non è possibile ai tempi d'oggi. Qui ci stanno a massa gratuiti, questi aumenti, che poi sono anche neanche tanto regolari quello che fanno. Che è troppa, perché noi ci stiamo molto attenti ai rifiuti, siamo veramente bravi. Come si vede la città è pulita, la gente non porta via, però altri 50 euro sopra quelle che già abbiamo pagato, non mi pare troppo. Adesso è tutto troppo. Anche le altre bollette? Anche le altre bollette, brava. E noi pensionati, dunque, 20 euro ci hanno aumentato. Con 20 euro se ne potevano tenere. Così ci pagavano i loro besti venti che si fanno. Cara. Che ne penso? Che non va bene, però... Che dobbiamo dire... Tanto tocca a stacce. Ormai stiamo sotto una dittatura e quindi... Io non lo so, non lo so. Dicevano che doveva abbassare, visto che facevamo la differenziale. Ma invece questo ribasso non l'ho visto. Ora, dice che aspettiamo una batosta. Io pagavo intorno ai 200 euro, 200 e qualcosa. Ora non lo so, quanto ci aspettiamo? Non lo so. Grazie. Grazie. Grazie.